Musica A suello l'amministrazione comunale ha deciso di offrire la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi a pagamento al test sierologico da questa mattina a prelievi nella palestra della scuola. E all'ospedale di Lecco partiti test sierologici disposti dalla regione, sottoposti a screening i soggetti individuati da ATS, il personale sanitario, nessuna patente di immunità. Triste primato per la provincia di Lecco, il decimo posto in Italia per morti da coronavirus in rapporto alla popolazione, lo dice uno studio del San Raffaele, si paga la vicinanza con Bergamo. Lecco si prepara alla fase 2, i sindaci della provincia hanno deciso di riaprire dal 4 maggio cimiteri, mercati elementari e le casette dell'acqua, vietati gli assembramenti. Musica Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco. Oggi parleremo e apriremo parlando con i test sierologici, quelli diciamo ufficiali partiti all'ospedale di Lecco, ma soprattutto quelli partiti a Suello, perché Suello ha deciso di fare da sé. L'amministrazione offre la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi a pagamento al test sierologico. Il via questa mattina nella palestra della scuola elementare, non diamo patenti di immunità, spiega il sindaco, ma fotografiamo la situazione dei contagi in vista dell'avvio della fase 2. 45 euro, un piccolo prelievo di sangue, i risultati comunicati via mail dopo tre giorni. Suello ha avviato i suoi test sierologici. Nonostante i dubbi di ATS, l'amministrazione ha voluto procedere in autonomia, offrendo la possibilità a tutti i propri cittadini di verificare se siano venuti a contatto con il coronavirus sviluppando gli anticorpi. Più di un terzo degli abitanti del paese ha deciso di effettuare il test, ma anche grandi aziende del circondario hanno chiesto di poter sottoporre alla prova i propri dipendenti. Il test che eseguiamo è uno dei quattro test individuati dal Ministero della Salute come test affidabili, hanno una sensibilità del 95,6% e la specificità del 96%. In pratica i pazienti vengono sottoposti ad un prelievo di sangue venoso, una provetta normalissima da siero e nell'arco di 3-4 giorni viene sviluppato il test che è quantitativo, quindi viene dosata la quantità di anticorpi presenti, i GM e i GG. Sento molto parlare di patenti di immunità, io non credo che esista in questo momento nessun esame che possa dare una patente di immunità. Si fotografa lo stato di salute attuale delle persone, si può capire quali persone sono entrate in contatto col virus e hanno quindi sviluppato una risposta anticorpale, si può stabilire chi non è mai entrato in contatto col virus o quantomeno non si è contagiato, quindi il virus non è riuscito a penetrare la cellula, oppure se qualcuno, ma questo è un riscontro accidentale, ha ancora le IGM elevate che sono quelle che segnalano un'infezione in corso. In tutti e due i casi sarebbe consigliabile l'esecuzione di un tampone per confermare la mancanza di contagiosità, che è l'unica cosa che in questo momento il tampone può confermare. La popolazione ha risposto in modo massiccio, abbiamo 650 adesioni, oggi soddisfiamo 300 persone che sono in progetto di andare al lavoro e questo per me è importante. Non c'è, come ha detto il dottore, una patente di immunità, però perlomeno veniamo a capire la portata del fenomeno che ha interessato il paese. Abbiamo 33 casi di positività in paese su 1700 orbitanti, questo servirà a capire cosa è successo veramente in paese. Tra i cittadini che hanno deciso di sottoporsi al test c'è chi ha avuto sintomi sospetti oppure chi teme di essere asintomatico e poter contagiare parenti e colleghi. Molte persone come me sono sicure di aver avuto dei sintomi che si avvicinano ai sintomi tipici del covid, ma non sono stati né messi in quarantena né sono stati contattati da nessun ente sanitario per verificare questo. Ho deciso di fare il test più che altro per me e colleghi, essendo stato un paese abbastanza infetto, spero di non avercelo tuttora. Da oggi invece negli ospedali lecchesi sono partiti i test sierologici, quelli disposti da Regione Lombardia, diciamo quelli ufficiali, eseguiti 300 esami al giorno, sottoposti a screening soggetti individuati da TS e tutto il personale medico. I positivi saranno sottoposti poi in seguito a tampone. Attenzione però, troppo presto per parlare di patente, di immunità, avvisano gli speciali specialisti. Al via da oggi, negli ospedali di Lecco, Merate e Bellano, i test sierologici disposti da Regione Lombardia tramite ATS. Siamo in collegamento con il direttore socio-sanitario dell'azienda ospedaliera di Lecco Enrico Frisone e con il direttore del laboratorio di analisi Claudio Bonato. Intanto, avete iniziato oggi nei tre presidi, chi è chiamato a eseguire questo screening? Sono una fascia di popolazione individuata dalla TS che viene segnalata a noi e in coda, avendo a disposizione una dotazione di reagenti molto cospicua, anche cominciamo con i nostri dipendenti che risultano non essere stati affetti dalla patologia del Covid-19 e quindi non ancora tamponati con tampone positivo e che quindi volontariamente e quindi possono aderire a questa campagna di screening con i possibili risvolti. Circa 300 al giorno? Sì, più o meno 300 al giorno insieme tra i dipendenti e quelli segnalati da ATS. Prelievo del sangue, test certificato da Regione Lombardia? Un test che è stato certificato da Regione Lombardia ed è stato validato nei laboratori del San Matteo di Bavia dell'Università di Bavia. È un test molto specifico, è stato ingegnerizzato appositamente per rilevare quelle che sono gli anticorpi che sono rivolti verso quelle parti del virus che si attaccano alle cellule del nostro organismo. E questi anticorpi dovrebbero essere quelli che meglio ci tutelano da una possibile infezione. Entro quanto tempo sia la risposta e soprattutto se si risulta positivi? Poi bisogna fare il tampone? Il tempo necessario per l'esecuzione del test è di poche ore, quindi i test vengono disponibili compatibilmente ovviamente con il numero, ragionevolmente in giornata. Una volta imbattuti su un soggetto positivo proprio per la finalità dello screening che è stato introdotto da Regione Lombardia viene richiesta l'esecuzione del tampone perché la positività del test indica che il soggetto è stato in contatto con il virus. Il tampone certifica che il soggetto in questo momento non elimina più questo virus, non ha più questo virus addosso. Quindi lì ha sviluppato una risposta immunitaria e non è più contagioso. Quindi a quel punto ha una patente di immunità oppure no? No, parlare di patente di immunità in questo momento è prematuro poiché noi non conosciamo la biologia del virus e come si comporta. Non sappiamo se reinfetta i soggetti. È nuovo, è la prima volta che la nostra razza incontra questo virus. Quindi lo impareremo, lo impareremo. Il test che abbiamo a disposizione è quello che forse meglio si presterà a capirlo e lo sapremo facendo gli screening che stiamo facendo. Triste primato per la provincia di Lecco, al decimo posto in Italia per morti di Covid in rapporto al numero di abitanti è quanto emerge da uno studio realizzato dall'Università San Raffaele di Milano pagato lo scotto della vicinanza con Bergamo. Ora nella fase 2 è importante isolare i microfocolai con tesse e tamponi, dice il professor Carlo Signorelli. La provincia di Lecco al decimo posto in Italia per quanto riguarda il tasso di mortalità per Covid-19. 105 vittime ogni 100.000 abitanti in base alla ricerca dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano condotta dal docente di igiene Carlo Signorelli. Prima di noi Piacenza, Bergamo, Lodi e Cremona con un dato che più del doppio di quello lecchese a seguire Brescia, Pavia, Parma, Mantua e Alessandria. Nell'ambito di una ricerca finanziata dalla Commissione Europea sull'epidemiologia del Covid-19 stiamo facendo dei rilievi e ultimamente abbiamo voluto esaminare i dati di mortalità per Covid riferita alle province di alcune regioni Nord Italia, le più colpite. Nel grafico che spero tutti voi possiate vedere si nota che le quattro province con la maggior mortalità aggiornata al 17 aprile sono nell'ordine Piacenza, Bergamo, Lodi e Cremona. A ruota vanno alcune province confinanti che riguardano sia la Lombardia che l'Emilia Romagna che il Piemonte con la provincia di Alessandria. Questo cosa significa? Significa che la diffusione dell'epidemia che è iniziata nel focolaio in provincia di Lodi di Casal Puserlego ha seguito e si è diffusa attraverso due direttive, una direttiva Nord verso Bergamo-Brescia e in parte l'ECCO che è stata interessata in misura maggiore rispetto alla media provinciale e una direttiva Sud che ha investito lungo quella che abbiamo detto è l'A21, cioè l'autostrada Prescia-Cremona, le province di Cremona naturalmente, di Piacenza, di Pavia e di Alessandria. Significa che la dinamica di diffusione dell'epidemia ha seguito le principali vie di interscambio commerciale e di abilistico. E purtroppo chi era più vicino ai focolaio, più connesso con i primi focolaio epidemiici ne ha risentito di più. Signorelli non ha dubbi, la fase 2 non è più rimandabile ma bisognerà convivere con il virus in attesa del vaccino e di cure efficaci. La fase 2 sarà una fase molto diversa perché non ci sarà più bisogno, se tutto va come noi speriamo, di molti letti in ospedale. Qualcuno si ammalerà ancora e verrà curato al meglio, ma non sarà una fase di ricovero ospedaliero. Sarà invece una fase dove è molto importante sul territorio avere la segnalazione di mini focolai e quindi sapere dove sono ubicati i casi e dove potrebbero riaccendersi costituisce un aspetto particolarmente importante. Dopo questa analisi provinciale la nostra idea è che si debbano fare delle analisi più dettagliate, cioè entrare nella provincia e andare a vedere se singoli comuni o aggregazioni di comuni, per esempio i distretti sociosanitari, annano dei focolai perché lì dovrà essere fatto un lavoro capillare di sorveglianza epidemiologica e anche di tamponi laddove serve proprio per identificare l'eventuale focolaio, evitare che si diffonda ed evitare quella seconda curva epidemica che rappresenta oggi la minaccia più grossa che questa epidemia pone. Il territorio lecchese si prepara alla fase 2 e in un quadro ancora denso di incertezze fissa alcuni paletti. Da lunedì 4 maggio saranno riaperti i cimiteri, i mercati alimentari e le casette dell'acqua in tutti i comuni, ad annunciare il presidente della provincia Claudio Usuelli e il sindaco del capoluogo Virginio Brivio, dopo essersi confrontati con la prefettura e i sindaci del territorio. Resta però la raccomandazione di indossare le mascherine, mantenere le distanze e evitare qualsiasi tipo di assembramento. Ulteriori misure potranno essere adottate dai singoli comuni, sempre nell'ambito delle disposizioni nazionali e regionali, per garantire meglio il rispetto delle norme di sicurezza, con eventuali modalità di ingresso e gestione degli spazi aperti. Alla luce dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai sindaci del territorio, abbiamo voluto adottare una linea unitaria, proseguendo nello spirito di condivisione e collaborazione che ha caratterizzato questo periodo, al di là delle diversità di vedute e di appartenenza, spiegano Usuelli e Brivio. Durante tutta la fase di emergenza, i sindaci hanno dato prova di intelligenza e dimostrato grande senso civico, lavorando tutti insieme, per il bene dei cittadini e senza protagonismi. Anche la nostra provincia è stata duramente colpita dal coronavirus, ma i sindaci hanno saputo mantenere la calma e infondere sicurezza nei loro cittadini. Questa sinergia ha coinvolto anche la Prefettura di Lecco, le Forze dell'Ordine e gli organismi sanitari preposti, la TS e la SST, con i quali ci siamo spesso confrontati. Di fronte alle graduali aperture dei prossimi giorni, ai cittadini, che in questo periodo di grave emergenza hanno dimostrato grande senso di responsabilità, concludono il Presidente della provincia e il Sindaco di Lecco, chiediamo ancora lo sforzo di adottare tutti i comportamenti necessari per contenere il contagio e mantenere alta la guardia, per non vanificare gli enormi sacrifici fatti nelle settimane precedenti. Lasciamo il capitolo coronavirus, quattro passi nel verde, un tempo era la normalità, oggi è un sogno, per celebrare e ricordare la bellezza delle aree protette del Lecchese, Parco Montebarro e Parco del Curone hanno lanciato due concorsi fotografici, sentiamo. Quattro passi nel verde, a primavera mai come ora ne avremmo bisogno, ma le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus ce lo impediscono. Un vero peccato è perché in provincia di Lecco le attrattive non mancano e così non resta che consolarsi con i ricordi. Il Parco Montebarro ha lanciato a questo proposito un concorso fotografico invitando tutti a donare le immagini della montagna scattate prima dell'epidemia coronavirus. In questi giorni di inattività forzata, spiega lente, tutti noi stiamo riscoprendo modi di stare insieme a casa, magari sistemando i nostri ricordi. Il Consorzio vuole offrire a tutti la possibilità di rispolverare le immagini del Montebarro raccolte negli anni e magari mai valorizzate. Ecco allora l'idea di un concorso aperto a tutti. L'invito è di inviare via mail le fotografie ritrovate dalla montagna. Il concorso vedrà da una parte la pubblicazione ogni mese delle foto ricevute sulle pagine social dell'ente e dall'altra l'organizzazione di una mostra nella sede del parco stesso al termine del periodo di distanziamento sociale. Una giuria poi sceglierà le foto ritenute migliori che verranno utilizzate per realizzare l'edizione 2021 del tradizionale calendario del parco. Una iniziativa simile è stata promossa anche dal parco del Curone di Montevecchia. Sul sito dell'ente è possibile vedere le foto di animali e di paesaggi dell'area di tutela Brianzola che sono state inviate da appassionati escursionisti di ogni età. Dovendo stare forzatamente a casa non resta dunque che consolarsi guardando le bellezze della natura di casa nostra troppo spesso trascurate o peggio dimenticate in passato. E in questo periodo di quarantena Sant'Omaso riscopre la pace e la tranquillità di una volta. In queste settimane il tempo è scandito dalle solo attività agricole e dagli animali. Queste e altre storie di montagna nella nuova puntata di Itinerari in onda stasera alle 21 e sabato alle 19.45. Nel corso della puntata anche collegamenti con la cima del Resegone con il rifugista Stefano Valsecchi e con la rifugista Anna Bortoletto del Rifugio Grassi. Vediamo un breve stralcio. C'è un luogo sopra Valmadrera, a meno di un'ora di cammino, dalla città che si chiama Sant'Omaso, un esteso pianoro erboso a circa 600 metri di altezza, solitamente molto frequentato e a volte forse un po' chiassoso. Oggi appare diverso, solitario e silenzioso, restituito appieno a quella sua dimensione rurale che molti avevano dimenticato. Questo è Sant'Omaso, è ancora una piccola realtà agricola, da generazioni da sempre. C'è qua due famiglie, con gli animali, io faccio il turismo, vivo di quello. Adesso siamo fermi, facciamo solo azienda agricola. E ora, come sempre, i nostri buoni motivi. Andrà tutto bene! E allora ciao, come sta la tua città, come vuota, come sola, le stendi le lenzuole. Allora ciao, però almeno c'è la cia, più pulita e traspare, non si vede oltre le stelle. In chiusura vi ricordiamo l'offerta del nostro palinsesto, gli appuntamenti quotidiani con i filmati d'epoca di Ti Ricordi, in onda alle 18 e alle 11.55 e con voi si sono aggiunti pillole di leggerezza con l'attore Riccardo Arigoni, in onda alle 19.45, tre pillole di salute al giorno alle 10, alle 15.50 e alle 17.15 per restare in forma. Domani sera alle 21, invece, il documentario di Montagna, l'altro spazio. Grazie per averci seguito, continuate a farlo anche sui social, su Facebook, su Twitter, su YouTube, sul nostro sito www.teleunica.tv. Vi auguro un buon proseguimento di serata.